Ma secondo te Arlecchino si confessò burlando? E te ti ha vestito scaramacai? Io sono con il mio burattino mascherato. Più che burattini bisognerebbe avere delle maschere vere e proprie. Perché? Perché il primo febbraio è carnevale. Allora è tempo di Coriando le Stelle Filanti? Sì, mercoledì 28 gennaio ore 10.30, diretta streaming su www.piananotizia.it Non mancare neanche questa volta!